Ad ogni temporale piove anche negli appartamenti dei prefabricati pesanti di Via Francesco Tedesco. Infiltrazioni e umidità la fanno da padrone in tutte le stanze. In inverno, praticamente, si convive con stracce e bacinelle in giro per casa. Una situazione insostenibile che i residenti denunciano con forza, così come fa il segretario di Federcasa, Carmine Sorrice, che chiede al più presto un incontro con il sindaco di Avellino Gianluca Festa. In discussione il trasferimento nei nuovi alloggi che sorgono a pochi metri, ma che da oltre un anno non vengono consegnati. Lo scorso novembre, organizzata da Federcasa, si è svolta una manifestazione con un corteo di protesta giunto fino al Comune, sei mesi dopo, a maggio, le preassegnazioni, ma da allora nulla è cambiato. Si è ripetuta la stessa cosa dell'anno scorso, ma sono da qua due anni che abbiamo questo forte problema e io ho una tremenda paura che mi cade il solaio in testa. Io vorrei fare solo un appello al sindaco. In effetti se ci può consegnare le chiavi dei fabbricati a fianco che sono terminati, che dentro sono terminati, e poi il resto lo fa mano a mano, mano a mano, i lavori, insomma, quando uno è dentro si completa, no? E la situazione è diventata piuttosto pericolosa. Intanto c'è chi fa notare che nel cantiere si lavora una volta ogni tanto e di questo passo le nuove case, sulle quali si notano già macchie di umidità, non saranno mai consegnate. Ieri mattina sono arrivati i vigili del fuoco e hanno constatato che sopra al tetto le guaine sono tutte consumate e hanno detto che il comune adesso facevano la richiesta, che il comune viene qua a mettere di nuovo. Questo si ripete ogni anno, ogni acquazzone, lo stesso novembre dell'anno scorso, lo stesso novembre di quest'anno. Noi aspettiamo lo spostamento a quegli alloggi e chiediamo un appello al sindaco che ci dia le chiavi di quegli alloggi. A nuovi alloggi si vedono delle lesioni di umidità, perché questi alloggi se non vengono abitati, se noi non andiamo dentro, questi alloggi si finiscono come a questi prefabricati.